Il PD nell'area grecanica si prepara ad una festa per onorare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Cosa può significare questo? Io credo che il Partito Democratico non solo a livello locale ma anche a livello nazionale tutte le iniziative coincidono con i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E mai come in questo momento è importante ribadire questo concetto perché in una nazione così divisa voluta da alcune frange politiche credo che il voler riaffermare l'unità è un momento importante e particolare ed è anche da sottolineare. Le feste del PD nell'area grecanica ma in tutta la provincia di Reggio Calabria quest'anno hanno un movimento particolare perché dopo tanto tempo, è da tanto che non si festeggiava. Credo che le ultime feste fossero state quelle dell'unità e dell'amicizia dei due partiti principali dei due partiti dai quali è nato il Partito Democratico e quindi credo che invitiamo tutta la popolazione a partecipare sia per gli interessanti dibattiti che si andranno a fare per le interviste ma soprattutto per avere un'occasione per salutare la popolazione. Ecco, una domanda di caratura nazionale. Viviamo un momento davvero difficile, un momento economico chiaramente. La manovra finanziaria pesa come un macigno soprattutto per i più deboli? Sì, la manovra finanziaria è più che la manovra noi dobbiamo partire dalla crisi, una crisi che non è solo italiana, è globale, è di tutta Europa ma anche dell'America quindi credo che sia un momento veramente di grandi difficoltà di tutto il mondo. Ci sono stati dei tagli lineari, noi però assistiamo ad annunci e poi subito dopo smentite anche rispetto ai provvedimenti che si sono presi in questa manovra. Soltanto nel momento in cui andremo in Parlamento e ci porteranno effettivamente la vera manovra che dovrà essere valutata e votata, speriamo di poter avere un sano dibattito e che almeno in questo il Presidente del Consiglio mantenga la sua parola, che non ponga la fiducia per dar modo a tutti quanti di poter partecipare al dibattito e di migliorare eventualmente per quello che si può questa manovra. Ecco, in politica non è giusto essere pessimisti o ottimisti ma bisogna essere sempre concreti però se lei in questo senso volesse esprimere un giudizio come la vera la nostra situazione economica e la situazione economica comunque dell'intera Europa? Io credo invece che i politici di solito sono a volte molto ottimisti bisogna invece secondo me essere reali perché la gente che vive e che ha a che fare quotidianamente con i problemi non può sentirsi più presa in giro. Il momento è duro e credo che ci deve essere la cooperazione e purtroppo il sacrificio di tutti ma questo sacrificio non deve essere solo da parte del ceto medio ma anche dai grandi evasori e da quelli che possono dare e possono contribuire a migliorare questo momento. Ecco, il federalismo fiscale secondo lei contribuisce ad avvicinare il meridione all'Italia o lo allontana definitivamente? Il federalismo fiscale in questo senso parliamo perché l'unica manovra, l'unica legge che è stata fatta e che è stata approvata è stato il federalismo municipale. In questo momento io credo che ha dei lati positivi, può avere i suoi lati positivi ma con le difficoltà che hanno tutti i comuni, soprattutto quelli dell'Italia meridionale credo che sia anche un momento che andremo come al solito a pagare di più noi gente del meridione. Grazie.